Non esiste un piano concreto per il rilancio delle attività del porto. Lo denunciano i lavoratori della cooperativa Porta Bagagli del Porto di Venezia che vorrebbero tornare a guardare il futuro con navi di nuova generazione, impatti ambientali ridotti, stabilizzazione della stagionalità. È stato bloccato l'escavo dei canali dei petroli. Questo non ci dà nessuna possibilità di poter lavorare con il nostro porto. Questo è un problema grosso per noi e questo è un problema che ci toglie prospettiva e si pensi che siamo fermi da 16 mesi con possibilità di stare fermi almeno tutto il 2021. Questo ci toglie prospettiva e chiediamo che finalmente, come altre città portuali, ci diano la possibilità, Genova e Trieste, di poter avere delle soluzioni. Attività portuale che riguarda 20.000 famiglie messe a rischio per la mancanza di scelte infrastrutturali coraggiose, rilancia Tomasini, che permettano di tenere il passo con i tempi e che diano una prospettiva ai lavoratori. La nostra cooperativa sono circa 160-170 lavoratori, di cui parecchi stagionali, che non hanno neanche la disoccupazione da giugno e sono senza reddito. La nostra cooperativa non ha avuto nessun tipo di ristoro e stiamo facendo tutto con le nostre forze.